Non ci sarà lo ristorto riappiedato dal giudice sportivo nella delicata trasferta del Foggia in quel di Casarano. Mister Corda, ancora sostituito dal vicecao in panchina, dovrà fare a meno oltre che dell'attaccante classe 88 anche dello squalificato di Masi che sconta la seconda di tre giornate. La buona notizia invece è che Salvi è tornato ad allenarsi con i compagni e potrebbe rientrare tra i convocati per quella che diventa per i downi la partita più importante della stagione. Rossoneri che arrivano da tre vittorie consecutive cercano il record, mai sin qui in stagione. Infatti, i gentili e i compagni hanno inanellato quattro successi di fila, un record che potrebbe portare in dote anche un isperato sorpasso al bitonto capolista che, reduce dalla sconfitta interna contro l'audace Cerignola, se la vedrà in trasferta contro il Taranto. Tutta Foggia incrocia le dita, ma intanto c'è da battere un Casarano ferito nell'orgoglio dalla pesante debacle di domenica scorsa. 7-0 in casa del Sorrento, contestazione, ma anche tanta voglia di reagire e mettersi alle spalle quel risultato con una vittoria. Foggia e Bitonto continuano il duello infinito nel mezzo ad influenzarne le sorti Casarano e Taranto.